Eccoci qui, buonasera e benvenuti nel nostro ormai consueto appuntamento del mercoledì dedicato agli speciali monotematici su dei grandi artisti, sui migliori artisti, sugli artisti che Arte Network seleziona per voi, per le vostre collezioni. Ormai sono diciamo parecchi mercoledì che trascorriamo assieme dalle 22 a mezzanotte e devo dire e ringraziare per le tante conferme, per l'interessamento soprattutto, per il coinvolgimento reciproco perché come dico sempre questo è uno spazio nostro, condividiamo assieme una passione, una collezione e anche oggi abbiamo scelto di proporre un artista unico, fuori dagli schemi, che sicuramente si caratterizza per le svariate tecniche di collage da lui coniate, quindi diciamo neologismi per quanto riguarda sia la terminologia e le terminologie che oggi affronteremo assieme e anche per quanto riguarda poi la concretizzazione visiva di questi neologismi tecnici che giricolara appunto conia nel novecento riguardo appunto la tecnica dei collage. Scopriremo assieme, sicuramente riaffioreranno opere uniche, ci saranno dei collegamenti storici ed epocali perché questo è, anche questo è giricolare, far rivivere un iconismo che gode dell'eternità attraverso forme femminili, attraverso dei miti, attraverso figure antiche che riemergono e entrano a far parte di nuovi spazi, gli spazi appunto creati e coniati da giricolari e rivivono, ok, in un'altra epoca godendo sempre dell'eternità che le contraddistingue, quindi immagini, figure, metafore, adesso ci addentriamo in questo meraviglioso mondo sono molte le opere esposte ma sono anche molte le opere oltre a quelle esposte a vostra disposizione come sempre c'è Stefano al centralino che vi aspetta per qualsiasi richiesta e voi anche dovete essere partecipi nel rivolgerli, nel chiedere la lista, la lista con i relativi prezzi di tutte le opere, non solo quelle esposte ma anche le altre selezionate per voi, quindi già vi invito all'appuntamento al centralino i numeri che trovate in sovrimpressione e così cominciamo bene, cominciamo già con una veduta ampia di tutto quello che potete confermare oltre a quello che abbiamo scelto di esporre oggi. Alle mie spalle, lo dico già e lascio spazio alla protagonista perché questa è l'opera in assoluto più importante della trasmissione, della nostra collezione, della nostra selezione dedicata a giricolare, dal punto di vista della tecnica perché parleremo di diverse tecniche di collage come già vi ho anticipato ma l'opera alle mie spalle che è l'otto numero uno in sfondo oro, nel nostro cavo come sempre ormai di mercoledì, diciamo che è il top lot di questa selezione. Se volete puntare al massimo della conferma di oggi su giricolare, grandissimo artista, sofisticato, delicato, anche particolare per questa tensione che crea tra letteratura ed arti visive, quindi in realtà poi tutto emergerà nell'analisi delle sue opere. Questa è l'opera, come dicevo, più importante in assoluto dal punto di vista artistico ma soprattutto tecnico. Parleremo molto di tecnica, è la lente ed è il punto focale per comprendere la dimensione artistica di giricolare, è la tecnica ciò che lo rende unico, ciò che fa sì che si contraddistingua dagli altri artisti che si approcciano all'utilizzo del collage e non è semplice perché in un malasma di sperimentazioni, qual è stato il Novecento, nel progresso della sperimentazione, lui riesce a tirarsi fuori, a contraddistinguersi dalla massa e dalle sperimentazioni su carta. La carta, questa materia, questo supporto che con giricolare diventa in realtà stratificato e poi vedremo perché stratificato, è tutta una metafora letteraria anche oserei dire. Quindi partiamo subito dalla protagonista indiscussa di questa trasmissione che è l'opera all'otto numero uno. Avete queste ulteriori e magnifiche grafiche che Marcello della nostra regia manderà in onda durante queste due ore di diretta che potranno darvi degli spunti visivi in più rispetto a quello che è il massimo che noi possiamo fare attraverso il filtro televisivo riusciremo a darvi. Partiamo da quest'opera perché come ho detto non solo come noterete sia dalle grafiche ma anche per questo vi invito a farvi spedire il pdf dalle argomentazioni e dalle misure e tutto quello che potete trovare come informazione in più, ecco fatevelo spedire, ve lo consiglio profondamente, vedete è del 67. Quindi oltre ad essere la più importante è anche tra le produzioni e le relazioni più datate delle nostre proposte e questo è importante assolutamente perché sono in minoranza rispetto alle offerte che oggi abbiamo collocato nel set per voi. E qua sicuramente il primo punto interrogativo, la prima curiosità suscita come vi ho detto riguardo questa tecnica sicuramente moderna ma noi notiamo subito qualcosa di antico, qualcosa di iconico, qualcosa che riaffiora da una coscienza e da una conoscenza comune che fa sì che da questa sorta di divisione geometrica in fasce verticali emerga un'immagine riconoscibile. Infatti parliamo di un accostamento, di una tecnica da lui coniata con il neologismo di Rollage che è la tecnica in assoluto più sofisticata coniata da giricolari e in cosa consiste perché esistono talmente tante varianti e tipologie di Rollage che dobbiamo adentrarci nell'opera per comprenderlo assieme. L'artista taglia una o più riproduzioni, in questo caso più riproduzioni perché qua l'accostamento avviene tra due opere importanti. un'opera di François Boucher che sappiamo aver realizzato e aver dato un contributo artistico nella Parigi del Settecento e un'opera di Claude Lorrain del Seicento francese. Qui oltretutto intravediamo ecco vedete 1745 la firma di Boucher e già delle testimonianze rimandano ad un passato glorioso ad un passato che nonostante il trascorrere del tempo riemerge e si classifica come identificabile quindi come eterno una resistenza al tempo che sicuramente viene veicolata da Giricolari realizzando questi collage straordinari e ricchi di personalità. E queste strisce verticali appunto vengono accostate in dei nuovi complessi figurativi perché l'opera originale viene reintrodotta grazie al reinserimento di queste strisce verticali nell'accostamento, in questo algebrico oserei dire accostamento perché la perfezione applicativa e dimensionale è perfetta, algebrica, puntuale. Ok? E noi riusciamo assolutamente a godere di entrambe le opere, sia quella di Boucher che quella di Lorrain quindi 700 e 600 francese, Parigi, in una sola opera. Con questa applicazione, questa realizzazione e una stesura orizzontale, anche in questo si classifica come unica rispetto alle altre proposte di oggi le misure sono 77 per 33 infatti, ve le dico se non le avesse già colte dalla grafica e non a caso anche a livello etimologico, a livello letterario, questa parola che costantemente riaffiorerà nelle opere, nelle realizzazioni, nei collage di giricolari. Se noi dal francese estrapoliamo, no? Da rollage, en rollage, significa appunto anche nella sua traduzione cieca, perché l'artista è cieco, arrotolare, accostare arrotolando queste strisce con disposizione in questo caso verticale, perché come vi ho detto i rollage hanno una funzione ed un obiettivo specifico, che è quello di dare dinamismo, movimento. Il movimento si ottiene proprio da questo ritaglio verticale e da questo incollare gli elementi in forme nuove, in forme nuove che però mantengono e non sfumano mai l'autenticità dell'opera. L'opera non viene veicolata, non viene violentata, non viene cambiata, anzi, la sua autenticità si preserva e questo noi lo vediamo proprio a primo impatto, ad impatto visivo, ma subentra la tecnica, subentra il cambiamento, subentra questa severità degli incastri e questo ordine ritmico che è tipico del rollage, che sono appunto basati sul principio della variazione. E qui, alla fine, nonostante queste applicazioni verticali, queste due opere che convivono nella stessa stesura del rollage, ripeto, è la più importante, per questo le spongo subito, per questo voglio entrare in merito per voi collezionisti già dall'opera del 67. Non le vedremo e non le incontrerete sicuramente nella vostra esperienza artistica solo con la disposizione verticale, perché c'è la disposizione orizzontale, c'è quella a sezioni geometriche dei quadrati, gli obliqui, gli interrotti. L'effetto è questo, un genetismo, un dinamismo. e la rigidità e la severità e la perfezione geometrica con cui riesce a far rivivere un passato che tuttora nel presente è riconoscibile, è anche una metafora e un senso di moralità, una moralità che sarà presente non solo in quest'opera, ma che è un po' un filo conduttore per tutte le opere che oggi andremo ad analizzare. È una moralità espressiva, è questo primo approccio che l'artista ottiene attraverso la letteratura e che poi con l'avanzamento della produzione artistica diciamo si scolla, abbandona ma non del tutto, non in senso universale l'arte letteraria e si confronta con l'arte visiva, l'arte visiva che è rappresentata da questa stratificazione come se fosse una successione di generazioni. È un po' la metafora anche della vita, quella che noi incontreremo nelle opere di Giricolat, una stratificazione, uno scavare dentro se stessi ed accorgersi di quanto in realtà l'esperienza vissuta sia sempre presente e susciti sempre un sentimento di stupore. Questo è anche Giricolat, una moralità artistica legata a una magistrale sperimentazione tecnica delle più importanti forme di collage del novecento. Per le informazioni, per le richieste, Stefano è già il centralino a spedirvi il pdf, a spedirvi la lista dei prezzi, delle proposte? E da questa prima opera emerge anche un'altra importantissima tematica che durante questa trasmissione, ma anche semplicemente in un percorso di approfondimento e di studio di Giricolat risulterebbe palpabile, ovvero il far rivivere la figura femminile, la donna, ma senza estrapolarla da un contesto, in questo caso soprattutto di dipinti antichi, di dipinti che hanno segnato un passato storico e artistico in maniera evidente, perché poi andremo a vedere tutte le figure femminili esposte nella selezione di oggi. Anzi, anzi, come ho deciso prima di iniziare la trasmissione con Stefano, vi faremo anche una richiesta. Attenzione perché oggi dovrete essere partecipi anche nell'interazione per quanto riguarda poi lo scoprire una figura importantissima. E dall'otto numero, che in realtà per me è il primo, però poi voi nel PDF vedete tutto l'ordine dell'esposizione che ha scelto Stefano, andiamo all'otto numero 7, perché ho parlato di donne, ho parlato di figure femminili, andiamo subito a scoprire immediatamente una delle opere più importanti, che è la Mademoiselle Rivière, ritratta da Ingres, nel 1806. Ed è una figura femminile molto particolare, inusuale. Beh, intanto in questo caso non si spoglia in un nudo femminile, ma è un ritratto raffascinato, perché nei suoi collage sceglie di sezionare volutamente, con un significato che poi viene veicolato, e adesso lo andiamo ad analizzare, delle cellule, delle porzioni di alcuni dipinti importanti, di alcuni ritratti, di alcune vedute, attribuendogli un senso semantico, un significato semantico. E Ingres è uno dei più alti portavoce dell'accademismo pittorico, lui ricerca la perfezione formale, la rivisitazione dell'arte classica, rinascimentale, molto spesso con connotazioni che si rifanno a Raffaello o al Mantegna. Fatto sta che Baudelaire l'ha definito l'unico uomo francese che sapesse realmente fare i ritratti. Ed ecco qua, ed ecco qua, la riproduzione di, nell'81, di Giricolart, appunto, Emanuele Sevier, che è stata ritratta nel 1806 da Hanka. Perché si discosta dal classico nudo, sinuoso, femminile? Perché è uno dei rarissimi ritratti che vede e che promuove una figura femminile di una sensualità nascente, di un adolescente. Quindi non è una sensualità già affermata, non è esaltata dalle forme sinuose, sensuali di un corpo o di una donna, ma è il volto di una ragazza e ce lo fa capire anche in realtà la proporzione stessa, che è un po' anche surreale, se vogliamo dire, nell'accostamento delle proporzioni e dei volumi, perché il collo risulta molto sottile e delicato rispetto a questo viso, che appunto non è ancora completamente definito, molto tondeggiante, come vedete. E poi queste colorazioni tenue, tere, pulite, tipiche appunto di quel periodo di vita che vede la donna nella sua, diciamo, freschezza e innocenza. E questo soggetto è importantissimo nel percorso interpretativo di Ciricolare, perché la donna è un soggetto importantissimo e fondamentale e si coglie a pieno questa ricerca sensuale, come abbiamo già sottolineato, perché l'artista cosa fa? Getta dei ponti, in realtà, tra degli universi distanti. Questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo visto nelle figure femminili, nei nudi sinuosi della prima opera che abbiamo analizzato assieme. Qua invece lo facciamo attraverso un ritratto. Lui gioca tra universi distanti, con le bellezze della storia dell'arte, le taglia, le ricuce, vedete, le ricompone attraverso dei collage, delle sovrastampe, dove geometricamente seziona dei particolari, in questo caso prettamente geometrici, e uno include le labbra, l'altro include la parte superiore del volto, dove appunto sfuma con un altro colore, con un tocco di modernità e di contemporaneità all'opera, ma fa questo lui, lui cerca di far rivivere il passato, il passato quello iconico, quello eterno, quello intramontabile, cercando di dare un tocco di modernità che non violenti la figura femminile. Anzi, viene confermata l'unicità e l'iconicità che è talmente universale che resiste in ogni spazio, in ogni epoca e in ogni cultura. Perché la cultura, la vita, il mito convivono perfettamente nell'impronta artistica, nella comunicazione artistica di giricolari, non c'è una distinzione, piuttosto c'è un far rivivere attraverso sperimentazioni collage unici e appunto, come ho detto, coniati addirittura nel neologismo, nel termine, perché se noi andassimo a cercare rollage, prolage, froissage, tutte queste terminologie che sono coniate dallo stesso giricolari, ci accorgeremo che il rimando semantico e il rimando tecnico entrambi punterebbero unicamente sulla sua figura. Cioè l'artista si crea praticamente una linea di confine che protegge, già dalla tecnica utilizzata, protegge la sua unicità, non la dobbiamo esaltare noi. Si palesa in maniera evidente, non riusciamo a confrontarlo, a paragonarlo. È questo il motivo per cui Art Network sceglie di proporre per le vostre collezioni oggetti che più che accostarsi in linea con quello che è commerciale, prediligono il gusto di nicchia, la ricercatezza e, come sbrime proprio il giricolari, la raffinatezza di un passato e di un presente, di una contemporaneità che si fondono senza che uno annulli l'altro. si appropria davvero della storia dell'arte e lo emerge proprio da questo ritratto. Per quello questa affermazione la voglio fare mentre osservate, contemplate i dettagli di quest'opera dell'81, 27 e 8, scusate per 21 e 7, poi lo vedete anche nelle grafiche. Si appropria, dicevo, con leggerezza e dolcezza di un sognatore perché il sogno, anche questo, riemergerà come punto cruciale, come filtro di un'analisi tecnica, rincorre con consapevolezza con i sogni che ama e che protegge e che conserva. Questa è eccezionale. Eccezionale sia per l'importanza che già a priori nel 1806 le Mademoiselle del Vier dipinta da Ingres ha ottenuto, tanto da collocarsi come ritratti conico di una delle prime figure femminili colte nella fase di maturazione. Qui c'è la bellezza della non completezza. La bellezza di una donna non ancora affermata nei tratti, nella sensualità, nell'impronta femminile. Io lo trovo delizioso perché si discosta completamente dal comune ritratto del nudo che riesce, che oltretutto, il grande giricolar riesce a sublimare senza scemare nella volgarità. È incredibile. Questa raffinatezza letteraria ha permeato l'espressione dell'arte visiva in giricolare. Questa è la magia di giricolare. E dal ritratto passiamo appunto al nudo. Così subito spaziamo, così subito analizziamo la, l'evidente sperimentazione di giricolare. Se noi analizziamo e scrutiamo il nostro immaginario, la nostra conoscenza collettiva, il nostro percorso di conoscenza interiore, a tratti ci sono delle rappresentazioni iconiche, come appunto può essere il ritratto del volto che abbiamo appena analizzato, ok? Come saranno tante immagini di espressioni visive che incontreremo oggi nel percorso assieme dedicato a giricolare. Un'altra espressione iconica parlando di testimonianza artistica è presente in quest'opera. E già dobbiamo distinguere, diciamo, due piani di lettura. Diciamolo così, due piani di lettura. Due sezioni. Una è quella che analizziamo come cornice e poi, intagliata, il fulcro, il centro, il fuoco dell'opera. Perché analizziamo prima la cornice? Perché in realtà i collage fungono anche da contenitore. Questo stratificarsi, questa carta che a volte raggiunge davvero degli spessori incredibili, con tutto il substrato che si lascia alle spalle, no? Ma noi analizziamolo sempre come metafora di vita, come ho detto prima, no? Se analizziamo interiormente la vita, è come, e lui stesso così l'ha definita, è come se questa fosse stata un percorso di carte velate che poi fungono nel momento in cui andiamo a scavare dentro di noi tante esperienze e ricordi differenti. La cornice, impossibile da confondere, perché parliamo della composizione rosso-giallo-blu di Mondrian e conservate oltretutto al Tate Modern a Londra e parliamo dell'8900 olandese. Ma non parliamo dell'8900 olandese comune, parliamo di quella forma iconica che è ormai entrata all'interno della consuetudine visiva di ognuno di noi, non solo nell'ambito artistico ma anche nell'ambito del design, perché quello che in realtà fa Mondrian con questa astrazione pura dello spazio è realizzare delle campiture con queste forme, queste dimensioni geometriche ortogonali, righe spesse nere, che tra loro creano appunto questi spazi, queste campiture quadrate e rettangolari, che lui appositamente, appositamente sceglie di riempire a tratti con i colori primari, essenziali, il giallo, il rosso e il blu. Proprio come la titolazione dell'opera caratteristica e celebre dell'artista, ma anche il colore ha un senso, ha un significato. Innanzitutto questa astrazione volta a generare un ritmo, un'armonia del ritmo e ci sono delle caratteristiche che vanno sottolineate. Innanzitutto è fondamentale che i profili e i bordi dell'opera non si concludano all'interno del perimetro, ma volutamente danno spazio ad un altrove per permettere alla mente, al processo interpretativo, di continuare in spazi esterni e non circoscritti, non limitati. Il giallo è l'energia solare, queste sono proprio le definizioni che Mondrian ha utilizzato nella stesura e nella scelta del colore essenziale e primario. Il rosso è l'unione tra la luce e lo spazio e il blu rappresenta la spiritualità, quindi un'essenzialità introdotta in un rigore geometrico totalmente e puramente astratto. Le righe spesse nere ortogonali che appunto sezionano in quadrati ed in rettangoli, in questo caso il perimetro è la cornice dell'opera di giricolar e appositamente interrotte perché si presuppone che si possa scalare all'infinito lo spazio. All'interno, dal momento in cui l'opera di Mondrian non ha mai una centralità, se voi notate, qualsiasi composizione di Mondrian di queste sezioni geometriche manca di centralità, non ha un centro focale, va contro la rigidità e lo sfruttare lo spazio in prospettive geometriche ma lo seziona secondo geometrie che è ben differente e quindi giricolar cosa fa? All'interno riempie l'interpretazione con questi seni che probabilmente rimandano oltretutto a diverse correnti del passato ma sempre iconiche perché potrebbero tranquillamente rimandare a un nudo di Renoir o di qualche impressionista perché queste erano le tonalità, queste erano le ombreggiature, questa era la delicatezza con cui venivano ritratte le donne che spesso fungevano da muse, da modelle per gli impressionisti. E questa è la prima delle opere che appartiene a questa serie dedicata a Mondrian. Ma vediamone subito un'altra, perché avete la possibilità di spaziare già nel set ma anche dal pdf ad altre grandi opere. Partiamo da Le da Monselle d'Avignon, che è un'opera che forse non ha neanche bisogno di presentazione, nel senso che siamo di fronte ad una delle opere epocali di Picasso che non lo inserisce solo nel Novecento come artista più celebre ed importante ma proprio nel contesto universale artistico. Le da Monselle d'Avignon che ora è esposto al MoMA di New York, siamo nel 1906 e 1907, a cavallo questo pieno crea quest'opera inconfondibile, anche in questo caso un... In realtà qui possiamo parlare sia di intercollage che di sovrastampa, perché noi vediamo una differenza tra la cornice e lo sfondo, lo strato centrale, che in realtà è il substrato rispetto alla cornice che viene applicata a livello superiore e qua c'è un iconismo che, come ho detto, non ha bisogno di spiegazioni, c'è questo rimando al primitimismo tipico delle figure di Picasso, facilmente riconoscibili e poi, meno facilmente riconoscibili, andiamo accanto nella seconda proposta che potete collezionare in rente a questa serie, che diciamo è meno conosciuta. Qua si tratta di un pittore olandese della seconda metà del Seicento, anzi precisamente siamo tra il 58 e il 60, 1658-1660 circa, ed è un dipinto, un olio su tela, uomo che fuma e donna che beve in un cortile. Anche qua rappresentazioni iconiche di una storia che è un po' una sorta di celebrazione, quella di Giricolar, e allo stesso tempo una scelta di non abbandonare la storia, di non abbandonare quelle che sono le pietre miliari dei secoli antecedenti alla sua produzione, tutto circola nella sua costellazione cartacea come componente fondamentale. Non c'è una caratteristica che sia irrilevante rispetto ad un'altra, noi troveremmo veramente dei rimandi fantastici nella produzione artistica di Giricolar, sia per quanto riguarda la tecnica, ma anche per quanto riguarda le presenze contrastanti. Ecco, queste troveremo, troveremo delle presenze tra cristianesimo e ebraismo, tra latino e cirillico, si incontreranno lo slavo e il tedesco, anche, poi lo vedremo nei chiasmagic, quella tecnica importantissima che inizialmente applica gli oggetti e che poi utilizza come sfondo delle opere importanti. Anzi, adesso lo andiamo proprio a vedere assieme e al 14, se non erro, penso che anche voi abbiate, sì, i numeri corrispondono con le grafiche che Marcello sta... e non spaventatevi se nelle grafiche o nel pdf ci sarà qualche errore o discordanza su tecnica, perché colpa nostra non è stato creato con, diciamo, una precisione formale e teorica, lo stavamo sistemando, ma si sono scardinati, diciamo, tutte le caselle inerenti alle tecniche. E questo è il 26, quindi confermo che è il 26 uguale alla lista che vi arriverà in pdf. Ma facciamo vedere assolutamente questo, perché questo, questo rimanda a... Questo rimanda alla testimonianza di quanto vi ho detto poco fa, perché le testimonianze del cristianesimo spesso emergono proprio da dei testi, da della carta, di testi biblici, testi religiosi, lo stesso vale per l'ebraismo, ma anche per la letteratura. Lui utilizza in realtà la materia cartacea come veicolo di una letteratura che è stato costretto ad abbandonare, perché è stato anche arrestato durante il regime, perché noi sappiamo che Gericolat subisce anche gli effetti collaterali di quello che è il periodo centrale e storicamente più cupo del Novecento, che è appunto questo passaggio tra la prima e la seconda guerra mondiale. E questo influisce sicuramente, perché lui è stato costretto ad abbandonare il suo primo approccio come poeta, come scrittore e non l'abbandona del tutto, perché come ho detto lo riporta in questa che è una delle tecniche più importanti, quindi attenzione anche a quest'opera, che è la 14, è importantissima. Analizziamola subito assieme. Soprattutto concentriamoci nel supporto alla base. Altro neologismo, altra tecnica, altra forma espressiva coniata dallo stesso Gericolat, che è appunto il chiasmage. Ve l'ho già anticipato prima. Ma riusciamo proprio a far vedere bene la trama? Questa, vedete, sembra una sorta di puzzle cartaceo, dove in realtà i confini collimano perfettamente in questo disordine e ordine, perché lo scontro e incontro di immagini e parole sarà una costante, sarà una linea che troveremo soprattutto nell'espressione del chiasmage, che è appunto un collage costituito da questi frammenti, che vengono strappati, ritagliati da testi, che, questa è la bellezza, derivano da fonti svariate, differenti tra loro. Alcune ve le ho già anticipate, che sono i testi religiosi, altri sono addirittura ideogrammi cinesi, caratteri latini, ebraici, e questi brandelli sono ricomposti perfettamente, con una precisione millimetrica compositiva, e assumono delle forme geometriche, perché è un apparente disordine visivo che, man mano ci allontaniamo gradualmente e visivamente dall'opera, appaiono in realtà come una trama omogenea, ordinata, coesa, ed è questa anche la bellezza che coinvolge a livello interpretativo, lo spettatore, che per comprendere appieno l'opera deve anche entrare visivamente in contatto e in vicinanza. I testi, quindi, perdono il valore semantico, nonostante, nonostante, li mantenga appositamente per non rinunciare alla nota letteraria, alla cultura, alla raffinatezza letteraria che gli appartiene, e assumono un valore puramente tecnico, di disposizione innovativo. Dicevo importante anche perché, perché c'è una serie rarissima, e vi assicuro che sono difficilissimi da recuperare, magari potervene proporre, che sono la serie degli oggetti. Gli oggetti, tra le prime opere, quindi tra le più datate di Giricolart, troveremo degli oggetti tipici, perché lui vuole anche esaltare e celebrare la quotidianità, rendere, attraverso i suoi collagini, le sue tecniche moderne, rendere innovative le tecniche, ma riconoscibili per una quotidianità comune. Molto spesso, infatti, gli oggetti che lui realizza e riveste completamente con questa tecnica del chiasmage sono oggetti comuni, dalle posate agli zoccoli, con un riferimento culturale anche tipico della zona e del ritaglio geografico dove lui è cresciuto, anche artisticamente parlando, e sopra al chiasmage, un altro strato, un'altra applicazione con il nudo femminile nel francobollo, questa è la 14, per Stefano, per il centralino, per fare riferimento, per le conferme, mi raccomando perché è l'unica, l'unica, che conserva, la sette va in conferma, complimenti. Avete scelto? Benissimo. Non a caso mi sono soffermata e mi sto soffermando su quello che indirettamente mi sento di consigliare, a livello proprio anche di valore da collezionista, come se io stessa dovessi pronunciarmi o scegliere o fare una scelta. Quindi facciamola rivedere, ringraziamo, e va in conferma la sette che se non erro è appunto il ritratto. Giusto Stefano? Eccolo qua. Meraviglioso. Confermato, era l'unica della serie del ritratto di Mademoiselle Rivierda, che è stata appunto ritratta nel 1806 da Angre. E anche la numero 3, che è un altro, non è un altro. Ah, benissimo, benissimo, benissimo. Altra riproduzione, in questo caso con un collage speculare del volto, l'otto numero 3 in conferma, quindi la 3 e la 7 non più disponibili, io lo dico pubblicamente e ringrazio pubblicamente, ma state scegliendo bene. State scegliendo bene, sono veramente contenta. Vedo che ripercorrete perfettamente la lista che Stefano vi manda al centralino, e quindi 3 sette non più disponibili. Visto che siamo, ecco, visto che ho la visuale completa in questo momento del nostro set, intanto voglio ancorarmi nuovamente e appellarmi a voi per quanto riguarda quella che abbiamo visto con la tecnica del chiasmaggio. Gli oggetti sono veramente difficili. Se potessimo vi proporremmo quegli oggetti di cui vi ho parlato prima, ricoperti da questa tessitura di parole, di testi antichi, che lui fa riemergere per non voltare le spalle alla letteratura, ma sono davvero complicati da trovare e da ricercare. Ma quell'opera, come vedete, si isola per quanto riguarda la tecnica utilizzata. L'altro neologismo che Giricolard impone nella cultura del Novecento come rivisitazione, come invenzione del... ecco no, è sbagliato il termine rivisitazione, come invenzione del collage, che è il chiasmaggio. Spostiamoci per favore nella 33. Fammi una bella ripresa della 33, Max, perché anche qua c'è da dire. Poi ci spostiamo sulla 6, che anche quella è fantastica. Eccoci qua. Perché anche qua... A parte che, vedete, c'è sempre un supporto letterario per quanto riguarda... Nel frattempo, in questa piccola parentesi, osservate l'opera, io... Un saluto... Grazie mille, un saluto anche a lei, Davide, che mi viene sempre riferito, eh? Da Udine. Dalla provincia di Udine, ecco. Oggi ho sentito appunto dalla provincia di Udine la mia migliore amica, che è di Fagagna, posto meraviglioso in provincia di Udine. Stupendo. Allora, eccola qua. Io ce l'ho con un numero differente, non importa, voi ce l'avete con il 33 se non erro. Anche qua parliamo di sovrastampa. Quindi forse una delle tecniche, tra virgolette, più semplici da comprendere a livello di creazione tecnica, ma c'è uno sfondo che in realtà non funge propriamente ed unicamente da cornice, perché poi riemerge, vedete, in questi ritagli, in queste figure mitiche e storiche, che lui fa riemergere, che diciamo riconsacra. Riconsacra in un'altra epoca storica, li fa rivivere, ma in realtà le riconferma come parentesi storiche, come impronte storiche, come creazioni, come opere d'arte intramontabili. Qui parliamo del discopolo, che è un'opera di Mirone importantissima, che poi noi la conosciamo anche attraverso delle copie romane, ma l'originale, che è realizzato in bronzo nel 450 a.C., vedete, il simbolo dello sport, l'esaltazione della forma fisica e dell'attività sportiva, dei giochi, di quelli che erano definiti i giochi. In questo caso abbiamo il lancio del disco, la posizione scultorea, al centro, come sovrastampa di quello che è uno sfondo che in realtà riemerge solo ed unicamente all'interno della sagoma dell'opera scelta come soggetto principale. Questa, attenzione, è una delle prime presenze di un'opera scelta. presentazioni inerenti alle figure più antiche, all'iconismo storico ed artistico più antico, 450 a.C. Ma non è finita perché poi ci concentriamo anche sulle figure dell'antica Grecia ed egiziane, perché troveremo anche questo. e dicevo oltretutto che la cosa incredibile è che questo sostenere l'opera sempre da un commento letterario o da un contributo letterario è una connotazione propria di giricolari, perché lui stesso cosa crea? Crea il dizionario dei metodi, che aiuta noi a comprendere, ma non solo noi, anche i suoi contemporanei, perché lui si discosta da quella che era la normalità anche per i suoi contemporanei. E tuttora questa differenza di stile, di tecnica perdura nel tempo e è riconoscibile e indirizzabile esclusivamente a lui. Perché solo lui ha coniato e realizzato il chiasmage, l'intercollage, il rollage, beh, la prima opera che ho presentato oggi. Mi auguro, mi auguro davvero che qualcuno di voi comprenda e colga l'importanza di confermarla, perché quella proprio si discosta e si colloca come unica fra tutte, non a caso l'abbiamo disposta nel nostro fondale oro del cavo, come spesso possiamo fare per esaltare e per indirizzare già voi collezionisti. nell'opera giusta. E questa, come ho detto, è una delle prime. Ma, visto che siamo qua, nell'angolo delle... Beh, sì, alcuni rimandi sono anche talmente iconici da risultare quasi palesi. Questo l'abbiamo detto prima, perché ci sono degli artisti che hanno lasciato un'impronta che non potrà mai sfumare nel tempo. Ma volevo un attimo anche soffermarmi visto che ci troviamo proprio fisicamente in quest'angolo nelle forme uniche della continuità dello spazio. Opera importantissima di Boccioni. Poteva mancare? Non poteva mancare. Perché non è esclusivamente non è esclusivamente un'opera riconoscibile a livello universale. è anche una delle opere iniziatrici del movimento futurista, del cinetismo. 1913, Boccioni, esposta oltretutto al Museo del Novecento Milano, che è uno dei miei preferiti. Sì. Ah, addirittura. Motivo in più. Motivo in più per scegliere quella che più vi aggrada, perché c'è un ritocco sul prezzo, mi ha appena comunicato Stefano, su tutte le opere. nessuna esclusa. Quindi, qualsiasi sia il vostro orientamento e la vostra scelta, ognuno di voi godrà di questo ritocco che io appositamente non voglio mai osservare, cerco sempre di esprimere se mi viene richiesto. Ma in realtà non voglio che la conoscenza del valore economico possa influire su il valore dell'opera. Io voglio concentrarmi esclusivamente nel cercare di avvicinarmi il più possibile umilmente ad esprimere il valore artistico perché per quanto riguarda il valore economico quello che c'è da dire e che posso dire riferendomi ad ognuno di voi o ad ogni spettatore di oggi, della diretta di oggi è che Circular è a priori una scelta raffinata, delicata, di nicchia perché lo è la sua espressione artistica. La vostra scelta è coerente alla sua espressione tecnica ed artistica. Quindi in realtà la certezza che sia giusto collezionare un giricolato ve la dà lui stesso, non ve la diamo noi con queste parole di cornice, ve la dà lo stesso artista si nasconde proprio nell'essenza. grazie. 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 E poi, ecco, questo posso aggiungere a vostro favore. Io vi ho detto che il valore è già intrinseco nell'opera, lo trovate, ve lo esprime lui. Io non posso neanche minimamente avvicinarmi o provare ad esaltarlo perché è in vano il mio tentativo, ci si esprime già direttamente col suo essere, identificarsi come artista unico. Quello che posso aggiungere a vostro favore come supporto della vostra scelta però c'è ed è fondamentale perché molte opere di giricolare che oltretutto sono molto falsificati, insomma, si sa che anche questo è una trama buia di questo mestiere, sono queste esposte per voi e selezionate da Art & Network sono supportate dall'archivio giricolare. Questo sì, devo assolutamente comunicarvelo perché non è un dettaglio scontato, è un anzi, è una caratteristica che incide notevolmente nella scelta e nella collezione di un oggetto e di un'opera d'arte. È fondamentale oserei dire, è uno di quei tasselli che il collezionista non può dimenticare di valutare o di certificare prima di acquistare un'opera ma qualsiasi valore abbia. Non è quello l'importante, l'importante è l'autenticità, la cosa più importante e qua c'è il sostegno dell'archivio. senza parlare del fatto che la Galleria Le Long ha sempre trattato, si è sempre interessata, ha sempre creduto e sostenuto questo artista, questo sì ve lo devo dire, è a vostro favore, quindi assolutamente benvenga che abbiate un'arma in più e una consapevolezza in più per essere decisi questa sera. il 14 con il supporto realizzato con la tecnica del chiasmage, non lasciatelo qua, non lasciatelo qua perché è l'unico con la tecnica che inizialmente, vieni con me Max, che inizialmente veniva utilizzata per i grandi oggetti che diciamo si sono improntati con come prima importanza, come primo passo decisivo e che hanno eccolo qua, che hanno differenziato l'artista già dal suo principio. Adesso andiamo ad analizzare un'altra tecnica coniata. Vedete, è tutto un coniata, spiegata, approfondita in quel dizionario dei metodi che lui proprio regala come contributo e supporto teorico al per comprendere le sue opere. E vorrei soffermarmi con un'altra novità tra l'opera 21 e la 22. Oltretutto, visto che io proprio onestamente ve lo dico, non ci capisco niente di automobili. Stefano, mi sento proprio in dovere di tirarli in causa per chiedere scusate proprio la mia ignoranza perché magari starete pensando mamma mia come si fa a non conoscere, ma io non la riesco a riconoscere. Te Max la riconosci? Ecco, siamo nella stessa barca, quindi anzi aiutateci voi, scrivete a Stefano, sicuramente ci sarà qualche appassionato di automobili tra di voi, non ho dubbi. Facciamola vedere, facciamola vedere. Mamma mia, passerò sicuramente per eh vabbè, è la verità, non so che manchina sia. Anche qua, vedete, si è scardinata nella scheda tecnica il termine cramplage, qua in realtà si parla di froissage, come si parla di froissage nella 22 che è l'autoritratto. Questo è dell'80, l'autoritratto del 79, attenzione con l'autoritratto, ma a noi ci interessa la tecnica, ci interessa il neologismo, ci interessa la novità, il froissage che significa proprio tradotto in cieco spiegazzare. Questi fogli di carta, perché è questo il supporto, è questa l'anima, è questa la geografia compositiva di Gericolart che possono essere figurati o monocromi, questo dipende proprio, ecco speriamo che si riferiscano e questi fogli vengono sgualciti dopo essere stati inumiditi. Le immagini quindi risultano stropicciate, deformate da questo implacabile spiegazzamento che è il protagonista assieme al soggetto del collage. Vedete, ci sono delle sovrapposizioni, uno spiegazzamento evidente in questo caso nel cuore centrale del soggetto scelto dal che è uno spazio all'opera scelto dall'artista in modo tale che anche i confini risultino deformi, scomposti, deformati, sovrapposti, ma la cosa incredibile è che nonostante tutto questo metodo che in realtà è scientifico ed analitico e non è un approccio artistico è analiticamente approfondito sia il frossage che il rollage che tutte le altre tecniche di collage utilizzate da Giricolar tutto resta riconoscibile nulla viene nulla viene dimenticato modificato viene semplicemente fatto rivivere in degli spazi che rispecchiano una contemporaneità differente che è frammentata e l'autoritratto ci andiamo subito perché la tecnica li accomuna come ho detto prima del 79 l'autoritratto attenzione anche alle date anche quelle contano anche quelle contano se notate poi nella lista vedete quali si contraddistinguono anche per essere più o meno remoti ad ora alla nostra contemporaneità importantissimo anche l'autoritratto perché anche l'autoritratto 36 per 51 mantiene la stessa tecnica quindi quando siamo di fronte oltretutto è l'unico autoritratto quindi anche questa è un'ulteriore connotazione che comporta un favore a voi per l'acquisto della conferma dell'opera che anche nella selezione si estrae per unicità fantastico anche le grafiche che sta mandando in onda Marcello per darvi diciamo un'esperienza visiva aggiuntiva anche qua vedete tutto si decompone il volto la posizione rispetto al tavolo d'appoggio i contorni che sposano una decomposizione cartacea data appunto dall'utilizzo della carta che viene prima inumidita poi stropicciata poi i lembi vengono sovrapposti l'uno all'altro la riconoscibilità emerge dal substrato visivo in ogni caso ma guardatela è geniale è geniale anche per il fatto che neanche dai più grandi sperimentatori internazionali dei collage e soprattutto del supporto su carta può essere confuso quando un artista non può essere confuso per quello dicevo lui si palesa senza bisogno di celebrare o di enfatizzare la sua unicità è questa la bellezza che lui silenziosamente si pone ed elegantemente con la raffinatezza che è tipica e che abita proprio le sue opere questo mi piace di giricolare ha un animo davvero gentile nel porsi nel non dimenticare un un iconismo storico che sopravvive e che rivive in spazi ed epoche storiche differenti e poi anche dalle ricordatevi che anche dalle dalla lista importante perché per seguire poi graficamente la spiegazione di opere che non sono esposte nel set ma che sono comunque a vostra disposizione e tra queste questo è del 79 ma tra queste e chiedo gentilmente a Stefano un attimo la lista perché non vorrei sbagliare il numero ecco qua nella lista che vi verrà girata su whatsapp il lotto 36 o comunque l'opera che viene identificata col 36 non si tratta di un'opera unica ma in realtà è un'opera unica composta da una cartella che è la numero 86 di 300 datata 1991 quindi è una serie di una due tre quattro cinque sei sette otto nove tre dici la serie intitolata cristalli di genio dal collage bohème ecco e noi stiamo parlando di tredici tredici opere da voi con la possibilità di essere acquistate e collezionate da voi qua glielo dico perché qua è da conferma immediata 3.120 i 20 li metto io 3.100 perché i 20 disturbano 3.100 cioè 13 esemplari ve le faccio vedere perché sono no perché veramente anche qua dovete che poi è l'unica proposta disponibile per quanto riguarda le cartelle quindi questa serie accomunata da una produzione con un filo logico compositivo e tecnico realizzativo sono vedete realizzate con dei ritagli e degli intagli e con i caratteri tipografici perché la prima passione non dimentichiamola è la composizione tipografica che accoglie l'animo dell'artista e con tutti questi caratteri tipografici lui crea sovrapponendoli intensificandoli creando le ombre geometriche proprio con la sovrapposizione con la tecnica della sovrapposizione a stampa poi ci sono gli intagli e ritagli geometrici a 3100 euro 12 opere autentiche di Giricolart della cartella numero 86 di 300 1991 questa non è possibile non è possibile non è possibile evitare una possibilità di un'occasione come questa torniamo a far rivedere le due possibilità per collezionare la tecnica del fruassage ok perché sono unicamente queste due le espressioni del neologismo dell'invenzione di Giricolart facciamole rivedere prima dall'auto che se non erro è dell'81 e poi abbiamo l'autoritratto del 79 magnifiche queste questa cartella è magnifica non una non una 3100 ma 12 13 cioè vabbè incredibili le misure sono 29,8 per 25 20,5 quelle di prima appartenenti alla cartella fruassage le due possibilità l'auto che sto ancora aspettando il riconoscimento e l'autoritratto che è l'unico proprio nelle produzioni e nella collezione delle opere esposte oggi per voi dopo farei vedere assolutamente beh della collezione anche di Mondrian anche sulla collezione non è quella non riusciamo mica a ricondurla a riconoscerla ad identificarla assomiglia ma non è quella eh vabbè continuiamo con ecco vorrei tornare anche per quanto riguarda le figure femminili alla 6 la 6 è importantissima andiamo subito a vederla lasciamo spazio alla numero 6 che trovate nel nel pdf subito o apparentemente ad impatto immediato riconosciamo che e poi chiaramente ce lo conferma ce lo testimonia il titolo che l'artista attribuisce al all'opera si tratta di una rappresentazione di un nudo femminile del primo periodo di Picasso tant'è che nella ristampa ecco troviamo chiaramente la firma dell'opera che chiude il cerchio del dubbio e testimonia apertamente visivamente che si tratta di una delle opere di un nudo del periodo diciamo classico quello che tra gli anni venti e gli anni trenta i primi anni trenta vedono queste figure femminili un po' grossolane nelle forme nelle ombre in una imponenza e grossolanità dei lineamenti che anche in questa trascuratezza in realtà dei panneggi sotto dei trappeggi che non è curata raffinata eterea dolce queste mani robuste sono assolutamente un un tratto che riconduce a quella produzione picassiana degli anni venti e trenta e trasmettono quella che era il veicolo che è il vigore eccezionale che Picasso riesce a attribuire ad una figura che apparentemente domina per la pesantezza del soggetto lui riesce ad elevarlo e a trasfigurarlo a materia leggera esattamente come il sogno il sogno che ho citato inizialmente come componente immaginifica fondamentale per l'interpretazione di Giricolà e qua lo ritroviamo c'è una coerenza tra la scelta picassiana e la voglia di far rivivere con questo collage speculare uno dei piccoli Mondrian il 26 benissimo quindi il 26 non più disponibile lo dico a tutti per tenerlo a mente nell'analisi della lista che vi viene eccoli qua benissimo attenzione al tributo a Picasso sia per quanto riguarda le da Moselle d'Avignon intagliate nell'intercolle del con la cornice di Mondrian della stessa serie della stessa parentesi creativa dell'opera che è appena data in conferma la 26 eccola qua quindi non più disponibile la 26 ma non ma non tralasciate non smettete di considerare anche la 24 quelle da Moselle d'Avignon importantissima i tributi a Picasso risiedono proprio nella 24 e nell'opera numero 6 che abbiamo appena analizzato del nudo femminile del periodo classico di Picasso è importantissima e un'altra che vorrei vorrei in conferma da voi collezionisti è che è fantastica per il simbolismo per il concetto per il significato semantico rimaniamo su quella che abbiamo fatto vedere poco fa della Venere del Botticelli eccola qua eh beh eh beh qua veramente le presentazioni non servono penso che sia una delle rappresentazioni più femminili più importanti più sensuali più etere della storia dell'arte parliamo di un ritaglio ravvicinato del volto della Venere del Botticelli che è tratto dalla nascita di Venere realizzato tra il 1485 e il 1486 che noi sappiamo essere esposto agli uffizi eh trionfo del rinascimento italiano la culla sappiamo la serzata proprio qua e qui si parla perché di anticollage perché anticollage perché prima lui crea poi arriva un certo punto del suo percorso in cui non è che rinneghi ma vuole sbrigliarsi ed estrapolarsi da quello che aveva appena coniato da quello che aveva appena realizzato e quindi l'anticollage che viene inteso con la traduzione nella sua lingua nel cieco con sparizione è diciamo l'attuazione l'impressione opposta della creazione in questo caso cosa fa? fa una cosa che io ritengo sublime nell'arte perché tutti gli artisti che riescono ad essere sublime ai grandi togliendo pulendo svuotando o cancellando meritano meritano e sono degni di nota e di conferma nascono quindi in risposta agli anticollage di questo meraviglioso ritaglio ravvicinato del volto della venere più iconico di così non si può in risposta alle tecniche elaborate e di composizione qui toglie cancella nasconde vela in questo caso vediamo questa velatura bianco che un po' nasconde in questo intravedere che non è più un vedere netto conciso e palese ma è un intravedere i tratti delicati immortali ed eterni di quello che forse è il ritratto della bellezza intesa come bellezza pura e spesso negli anticollage di fatti lui utilizza degli elementi o dei soggetti che sono mitici spesso spesso rivisitati o ironizzati e come abbiamo detto a inizio trasmissione nell'incipit c'è una metafora che emerge da questo lavoro tecnico di collage che è una metafora rivolta al mondo attuale queste riproduzioni di icone pittoriche che non solo grazie alla conoscenza ma anche grazie alla inarrestabile riproduzione industriale ha contribuito a rendere riconoscibili ed iconici questi simboli artistici questo è spettacolare sì assolutamente questa 1994 25 7 17 7 l'anticollage della nostra proposta di giricolari vorrei chiedere a Marcello se gentilmente può mandare anche in onda per i nostri telespettatori un contributo un piccolo video uno spezzone che ritrae e vede lo stesso giricolari possiamo proprio assistere al momento della realizzazione della consacrazione della scelta eccolo 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 l'importantissima scultura di Boccioni che consacra e inizializza il movimento futurista come vi ho detto prima esposta al museo del novecento a Milano adesso lo andiamo a rivedere adesso lo andiamo a rivedere perché anche prima l'abbiamo andiamo andiamo spostiamoci subito nella 34 se non erro è importantissima penso che il video sia stato mandato in onda senza audio perché in audio è in lingua originale quindi quella eh vedete ma dai no andiamo subito a vedere no no ma lui è oltre lui è oltre è oltre va oltre oltre al fatto che cinque delle sue opere siano esposte al momo di New York quindi già questo va a sostegno internazionale del fatto che abbia scalato le vette delle istituzioni espositive internazionali ma al di là di questo la sua raffinatezza si coglie a priori anche se non fosse esposto al momo di New York e se questo luogo espositivo non fungesse da supporto per alimentare il valore delle proprie opere esatto polar è presente in quello che può essere definita la mappatura espositiva internazionale dell'istituzione più importante il momo e cosa importantissima una delle cinque esposte al momo non a caso non a caso questo oltretutto è da conferma immediata ma sia per il carico storico e per l'impronta che ha lasciato nell'opera reale che lui fa trasudare attraverso il suo collage ma l'opera centrale con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione l'unico rollage delle proposte ecco questa tecnica è stata selezionata per l'esposizione al momo di new york ve l'ho detto già in anticipo ecco questa è del 67 quella del momo è del 72 torniamo nell'anima del supporto tecnico e cartaceo del rollage perché come abbiamo sottolineato subito non a caso per indirizzare immediatamente verso senza ombra di dubbio la consegna più importante dei lotti esposti oggi in questa collezione il rollage lo rispieghiamo proprio per una comprensione tecnica che sta alla base e che contribuisce evidentemente in maniera decisiva al valore artistico ecco è l'invenzione di questa tecnica di collage il rollage in cosa consiste vedete questa disposizione verticale in ritagli algebrici perfetti geometrici che si accostano e che in realtà in questo caso non si esprimono in uno dei semplici rollage perché sono infinite poi le mutazioni a cui lui in cui lui approfondisce questa tecnica ma qua si tratta di un rollage multiplo tra due opere importanti di due esponenti fondamentali del 600 e del 700 francese che sono François Bouchet di cui noi vediamo e possiamo 1745 estrarre ed evidenziare anche dal dettaglio della firma e Claude Laurent del 600 questi due esponenti vengono collocati con questa rigida disposizione verticale che non è l'unica disposizione che noi potremmo incontrare nei rollage di Giricolart perché li realizza anche con una disposizione a quadrati a disposizione obliqua di rollage interrotti cinetici caotici sono diverse le rappresentazioni diciamo che questo è quello iconico e fondamentale e scelto anche nell'esposizione al MoMA pensate che in un'unica riproduzione può utilizzare dai due ai sedici pezzi oppure può scegliere come in questo caso di affermare più riproduzioni e creare un rollage multiplo il risultato l'obiettivo è lo stesso per entrambe le varianti offrire un dinamismo che è ottenuto da un ritaglio da un incollamento di elementi che creano un nuovo ordine un nuovo spazio una storia che perdura nel tempo ma che viene incasellata in un'altra epoca grazie ad un'invenzione non c'è un'ispirazione è questa la grandezza di un artista che va oltre che sfiora il genio questa è decisamente l'opera che dovete confermare a Stefano decisamente anche perché da quello che mi ha comunicato prima che ripeto ha fatto dei notevoli ritocchi ai prezzi per questa sera per lo speciale monotematico dedicato unicamente a giricolari quindi approfittate anche di questa circostanza che non so per quanto sarà ripetibile o l'invenzione che l'invenzione che sono Ce n'è un'altra importantissima realizzata sempre all'interno del decennio degli anni 60 che devo farvi mandare in grafica da Marcello perché non è esposta nel set di oggi ma è fondamentale quindi non posso non considerarla e non offrirla come vostra possibilità di collezione che è quella del 1961 intitolata Brancouche dedicata allo scultore romeno 1961 carta datilografata eccola qua questa è importantissima oltre all'adattazione che avete visto rientrano esclusivamente queste due barra tre opere nel decennio degli anni 60 quindi vedete ecco qua carta datilografata vedete il nome Brancouche dello scultore romeno che nel 1923 ha realizzato l'opera originale che è conservata dal Guggenheim che voi vedete riprodotta con questa tecnica in caratteri a stampa che è il primo amore la consacrazione artistica di Giricolard nasce con questa impronta della carta datilografata e successivamente con il chiasmage dell'opera che avete visto al 14 che c'è una proposta unica per voi le dimensioni le vedete 29 e mezzo per 21 importantissima perché va a celebrare l'opera dello scultore che è l'uccello nello spazio importantissima del 23 che con questa forma aerodinamica che in realtà è priva delle caratteristiche figurative ma vuole esprimere l'essenzialità del volo la pulizia aerea i tratti aerei di quello che è il volo questa è fantastica questa è fantastica 1961 chiedete subito chiedete subito a Stefano come confermare questa perché è un tributo importantissimo che realizza nel suo percorso di sperimentazione anche la sì questo è concettuale concettuale ma vedete come applica già lo studio della tecnica su caratteristica come anche il primo diciamo proprio imprinting all lo studio del supporto cartaceo è già evidente nell'esaltare un'opera iconica realizzata dallo scultore Brancouch la nove assolutamente vediamola subito la nove anche qua addentriamoci nelle lo vedete da sé intercollage quindi noi dobbiamo addentrarci non solo nelle figure più esposte nella rappresentazione iconica che sceglie per oltretutto l'unico intercollage con la sezione dell'ovale come se fosse proprio realizzato su un supporto differente e qua mi devo assolutamente soffermare eh sì questo è un capolavoro guardate i rimandi ogni ritaglio ogni substrato rimanda ad un'epoca passata ad una realizzazione ci sono ecco questa esaltazione di quello che viene definito collage a buchi quando in realtà in realtà qua si sfocia nell'intercalage che è un'altra tecnica su collage coniata dall'artista che significa semplicemente compenetrarsi ovvero intagliare o delle figure o ecco rimandiamola in grafica o delle sezioni geometriche come in questo caso la sezione del cerchio che in più elementi ci permette di entrare visivamente in contatto nei rimandi iconografici che stanno nel substrato come ho detto prima gli intaglia hanno forme più diverse in questo caso alla forma classicheggiante dell'ordine geometrico e poi vengono sovrapposte 68 questa era la terza che mancava all'appello delle opere del decennio abbiamo la prima che abbiamo presentato del rollage abbiamo il brancouche che abbiamo appena mandato in onda in grafica prima di questa e questa è la terza che chiude il cerchio delle proposte delle conferme degli anni 60 e questi ritagli questi intercalaggi vengono sempre sovrapposti a delle opere importanti a delle riproduzioni di opere famose e alla fine queste o applicazioni o questi ritagli perché gli intercalaggi si esprimono sia in delle applicazioni che ritagli in questo caso con il ritaglio assumono la forma di una silhouette e dentro i frammenti evidenziati dalle silhouette noi troviamo le opere celeberrime famose importanti ci sono anche degli altri proposte ci sono anche delle altre proposte io non so mai dare il numero di identificativo a Marcello dalla nostra regia ma in questo caso penso che riesca a identificare di cosa parlo è l'opera del 1989 per far vedere nuovamente l'applicazione di queste forme che lui attingeva e riproduceva dalla quotidianità parlo sia di quello con la pera che di quello con la scatola industriale se me li può mandare in onda gentilmente eccola qua 1989 in questo caso cosa fa? allo stesso modo ritaglia delle figure facilmente riconoscibili nella realtà e nella quotidianità come ho detto di tutti noi ma le sostiene quindi sostiene la purezza di una quotidianità e questa è la genialità sposandola con la grandezza e l'iconismo di opere celeberrime che stanno all'interno dei ritagli in questo caso parliamo di un Mondrian del XII a cavallo tra 1912 e 1913 della serie degli alberi di tutti i ritratti scomposti del primo cubismo degli alberi e perché vi mostro questa perché la serie delle pere fa parte anche dell'opera importante Giricolard che è proprio intitolata Poir Dada scusatemi l'accento io cerco di avvicinarmi il più possibile a quello corretto che è la serie che vede l'accostamento di due figure non come in questo caso della singola figura all'interno del quale Giricolard poneva un fotomontaggio di Hannah Hock e questa serie è importante perché è sostenuta dalle più importanti pubblicazioni allo stesso modo facciamo vedere quella del 1990 dove all'interno dell'industriale barattolo della testimonianza della prospettiva proprio industriale lui riporta le antiche rovine e quindi fa convivere due universi crea un ponte tra l'universo dell'antico l'universo del contemporaneo del suo tempo e ci mostra quanto nonostante il trascorrere dei millenni ciò che è storicamente iconico perdura sia nel nostro immaginario collettivo e visivo sia nell'importanza storica di elementi intramontabili dobbiamo assolutamente far vedere anche vediamo se riusciamo a trovare ce ne sono due di espressioni che vorrei mostrarvi inerenti all'arte antica e arcaica e di queste figure c'è sempre una riproduzione del barattolo con vediamo se nella lista riesco a dare un riferimento a c'è un'altra riproduzione eccola qui senza titolo del 1993 con il volto arcaico della statua vediamo se Marcello riesce a fare un riferimento mandarevela in grafica non questa che è un altro rollage ma un'altra che vorrei riconcentrarsi per la conferma che questa che numerò a Stefano gentilmente per fare un riferimento a Marcello vorrei che mandassero in onda questa perché è un esempio di doppia tecnica la 16 importantissima perché qua in realtà convivono due tecniche le misure le avete viste nella grafica che Marcello aveva andato in onda allo stesso modo in cui all'interno del barattolo dell'opera che abbiamo appena visto in cui colloca le rovine antiche in questo caso colloca un'icona antica che è fondamentale che è quella delle corree Ateniesi ma nulla è lasciato al caso perché la figura femminile che Giricolar abbraccia ed interpreta nelle sue opere su carta non escludono nessuna nessun ritaglio storico nessun periodo fino alle più antiche come in questo caso questa corree Ateniesi che ha una disposizione dei capelli volutamente realizzata per far risuonare l'eleganza assoluta e la musicalità vedete come partano dall'attaccatura della fronte e poi scendendosi discostino dal volto e delicatamente seguono il movimento della fisionomia accarezzando l'orecchio cioè è proprio musica questa che lui vuole imprimere in quest'opera che come vi ho detto comprende due tecniche e quella forse meno evidente dato che in questo caso purtroppo non possiamo farla vedere direttamente dall'esposizione è quella del fruttage la stessa utilizzata per l'autoritratto e per il lotto il numero 21 e l'otto 21 della macchina questo stropicciamento questo sovrapporre la carta dopo essere stata inumidita in modo tale che eccole ve le stiamo andando in onda Marcello in modo tale che si accavallino si decompongano nell'accavallarsi sia i soggetti o gli oggetti che i profili dei soggetti che nonostante nonostante il trascorrere del tempo questa decomposizione naturale che lui reitera proprio e veicola nella decomposizione del materiale quindi della carta resistono si intravedono emergono sono riconoscibili non tramontano per riuscire a veicolare proprio la metafora della vita in una tecnica inventata e coniata da lui stesso cioè lui è stato veramente un genio sotto questo punto di vista dato che abbiamo la possibilità di sfruttare al meglio anche gli ultimi 20 minuti direi di iniziare a fare una carrellata generale dare sia all'interno del nostro studio del nostro set la possibilità di cogliere tutte le proposte ma anche a livello grafico tra le proposte non ancora evidenziate dobbiamo mostrare la 31 a proposito di personalità intramontabili a proposito di produzioni iconiche riconoscibili ecco la vediamo in grafica la 31 in questo caso il volto della venere del botticelli viene ritagliato e poi applicato in questo collage in più strati viene specularmente diviso e velato di due note cromatiche differenti il rosa e l'azzurro poi abbiamo un inconfondibile auto ritratto di Van Gogh la stessa testimonianza dell'industrializzazione che nonostante il perpetuo ed irrefrenabile avanzamento non dimentica le pietre miliari del passato mirò il tutto convive in questo ventaglio di collage nell'unica o forse sono due le opere di questa serie di sovrapposizione a collage che troverete nella lista in pdf che Stefano vi gira al centralino e dopo di che inizierei assolutamente con una sorta di carrellata però soffermandoci sui tratti salienti uno di questi che avete dimenticato di confermare ve lo dico proprio in maniera diretta e trasparente è il 14 Max ti faccio fare questa maratona all'interno del cavo ma dobbiamo assolutamente eccolo qua perché ho detto avete dimenticato di confermare perché è l'unica opera non solo tra quelle scelte selezionate nel nostro set per essere esposte oggi a parete ma tra quelle disponibili proprio in collezione quindi anche nella lista completa che mantiene la tecnica del chiasmage da dove la possiamo apprendere dove la possiamo notare da la zona e dalla sezione che funge da supporto al collage quindi addentriamoci proprio in questo in questa iconica invenzione definita come ho detto prima chiasmage che è un collage costituito da numerosissimi frammenti ma è la provenienza sono le fonti che dimostrano l'importanza della letteratura in un percorso evolutivo di Giricolard lui ha dovuto abbandonare quella che è stata l'alba l'inizio e l'incipit di un approccio artistico quello di poeta e letterato ma la raffinatezza e la delicatezza della cultura importantissima nel linguaggio artistico di Giricolard non è totalmente rinnegata nonostante sia stato costretto ad abbandonare il primo approccio artistico quello della letteratura perché nel periodo della seconda guerra mondiale è stato pure arrestato per aver espresso secondo il regime in maniera eccessiva un periodo storico che doveva essere celato soffocato nascosto mantiene comunque questa testimonianza in questi frammenti di parole di lettere di ideogrammi e la bellezza è la convivenza lui non rinnega e non crea delle barriere tra delle realtà che seppur contrastanti il cristianesimo l'epraismo la fede e la magia convivono perfettamente e si legano omogeneamente in questi frammenti di caratteri latini ebraici gotici arabi ideogrammi cinesi come ho detto orientali e brandelli che sono ricomposti in questa fitta trama che apparentemente forse nella sua analisi più ravvicinata come in questo caso possono sembrare disordinati ma se noi osserviamo visivamente l'opera da questa distanza da questa dimensione visiva e prospettiva frontale ci accorgiamo di quanto sia talmente coesa che veicola perfettamente la metafora dell'unità e della convivenza tra le diversità che è quello che lui vuole comunicare a noi spettatori questa è importantissima mantiene e veicola una delle più importanti tecniche di collage coniate da lui stesso e vedete tutti questi brandelli questi frammenti si stemperano sullo sfondo e fanno risaltare e mettono in risalto il collage superiore e centrale dell'opera questa è importantissima a livello di percorso storico e tecnico di Collard altri collage che non abbiamo ancora analizzato sono quelli su metaformato quindi andiamo a vederli visto che li abbiamo esposti all'8, 10, 11 con dei rimandi in questo caso sempre cupisti facciamo vedere questi sono quelli del metaformato eccolo qua vedete le dimensioni così possiamo dare un'occhiata proprio generale ed universale a tutte le possibilità di conferma che avete oggi a disposizione in questi ultimi minuti di conferma dopo questa duplice visione dei metaformati concludiamo la carrellata dentro il nostro studio il nostro cavo con la 32 accostata alla 33 dove abbiamo visto il discopolo perché è la seconda in realtà su un formato ridotto rispetto alla prima opera che abbiamo esposto oggi per importanza nel nostro set che a voi appare come il 12 il lotto 12 che è questo rollaggio in realtà tra fure antiche anche questo multiplo vedete sempre con la disposizione verticale questo alternarsi come ho detto il formato è ridotto infatti andiamo subito a dare le misure che sono 25 per 16 del 93 questo e sempre l'importanza del rollaggio di questi ritagli disposti con severità in degli incastri in realtà che rappresentano la tecnica più sofisticata dal punto di vista dell'invenzione della geografia cartacea di Giricolard qui siamo proprio in quello che si può definire l'apice della sperimentazione sui collage vedete il nostro il nostro marcello ci mette anche una certa pressione psicologica con questo conto alla rovescia ma in realtà più che per me dovrebbe essere un po' per voi perché vi sta mettendo letteralmente alle strette per farvi capire che sto scherzando chiaramente sono gli ultimi dieci minuti di questa diretta condivisa dedicata alla produzione eterogenea di Giricolard e quindi abbiamo dieci minuti per riconcentrarci assieme sulle opere salienti del percorso che abbiamo analizzato oggi quindi non possiamo non possiamo non ridedicare un ritaglio visivo analitico al 12 che in realtà io l'ho definita senza neanche accorgermene dall'inizio della trasmissione la prima la numero 1 perché effettivamente per importanza se dovessi gerarchicamente stilare una lista ecco anche la 2 dopo la voglio far rivedere assolutamente la 2 di Brancush l'omaggio a Brancush quello anche il meraviglio della non conferma perché è del 61 e fa parte delle uniche tre opere estratte dal decennio negli anni 60 ma la 4 è la seconda proposta di quella che è andata in conferma che era la 3 quindi torniamo nella numero 1 che per voi è la 12 nella lista che è il rollage quello magistrale quello che ritrae e riprende l'opera selezionata la tecnica selezionata per essere esposta universalmente al MoMA questo significa che per quanto riguarda la selezione che definiamo avanguardista dal punto di vista della sperimentazione tecnica in questo caso in una delle più grandi istituzioni catalisatrici nel mondo con il numero di visitatori più denso assieme alla Tate Modern oltretutto che è la più visitata dove anche lì abbiamo l'esposizione del genicolare non casualmente viene selezionato proprio il rollage perché assieme al fruttage assieme all'intercollage al chiasmage che è il 14 mi raccomando in questi ultimi minuti selezionate già nella lista di opere potete confermarle nella replica potete confermarle domani scrivendo a Stefano non è un problema l'importante è che riflettiate su quelle che si evidenziano come le più importanti in un percorso evolutivo qua cosa abbiamo intanto questa riproduzione che vedete visivamente appare dietro le sbarre tant'è che e questo mi ha incuriosito che lui non abbandoni mai l'etimologia neanche nella sperimentazione nell'enologismo che attribuisce alle sue novità alle sue tecniche Roleta sono informata significa persiana in cieco lui veramente queste non sono caratteristiche irrilevanti queste sono le caratteristiche che prima ho definito raffinate in un artista che esaudisce tutte le proprie espressioni artistiche senza tralasciare senza stemperare in questo caso l'incipit che è quello letterario e notiamo appunto che queste sbarre determinano ed evidenziano in maniera algebrica una severità degli incastri eccola qua vediamo vi stanno mandando in onda proprio l'opera esposta al moma con la stessa tipologia si 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 è importantissima questa e qua possiamo fare anche un hanno fatto bene a mandarvela in onda perché spero che in questi 5 minuti che restano riusciate a fare una scelta decisiva e riusciate a comprendere con un sostegno che è l'esposizione al al moma che più testimonianza di così non potevano esprimervi ma nel nostro set di oggi nelle nostre proposte di oggi sono ben due le opere dedicate e che omaggiano la figura picassiana e per questo prima ho cercato visivamente già di orientarvi sia alle damoiselle d'avignon che sono rappresentate con l'intercollage all'opera numero 24 con la cornice di Mondrian e sia il nudo femminile del primo periodo picassiano quello ancora classico quello del nudo femminile un po' grossolano in cui lui riesce comunque ad elevare quella pesantezza visiva in una leggerezza che è tipica del sogno non sceglie casualmente queste due tipologie di nudi e di figure del nudo femminile di Picasso in queste due opere esposte nella nostra collezione di oggi l'altra che abbiamo mostrato in diretta è quella selezionata e disposta alla Tate Gallery quindi le due dimostrazioni di quelli che sono i due punti le due realtà che catalizzano perfettamente il mondo gli occhi del mondo puntati sugli artisti di massimo spessore quindi più di così e dicevo che le due opere facciamole vedere nelle ultime presentazioni in studio che sono state selezionate come tributo a Picasso dato che l'esposizione al MoMA di New York rappresenta proprio un rollage in cui noi intravediamo un iconismo e la raffigurazione picassiana cerchiamo appunto anche negli ultimi minuti che restano di dare la possibilità di confermare quella che è una scelta certa una scelta che non vi dà domani la possibilità al margine di magari tramontare un vostro investimento in un possibile rimpianto mai perché ormai storicamente ed artisticamente il MoMA ha consacrato il rollage dove si intravede l'iconismo picassiano e non può essere una scelta errata ecco qua abbiamo l'omaggio a Mondrian in cui inscrive all'interno con l'intercollage all'interno della cornice Le Damoselle d'Avignon una delle prime opere a esprimersi e a imprimersi come celebri nel percorso realizzativo di Picasso il corpo che è tutt'altro che sinuoso perché risulta squadrato da queste linee decise e i volti che rappresentano proprio la passione dei tratti primitivi nota di Picasso in questo minuto e 21 sono sicura che potrete fare l'acquisto e la conferma della serata l'altro è il nudo che abbiamo visto nel collage speculare della figura grossolana del periodo ancora classico a cavallo tra anni 20 e anni 30 che è l'impronta tipica e la rivisitazione dei nudi tipici di Picasso di quel periodo questi sono gli ultimi due poi vorrei salutarvi per la gioia di Max no dai questa volta gli faccio un favore di solito gli faccio fare sempre le maratone a fine serata da una parte all'altra del nostro cavo allora intanto anche oggi vi ringrazio per le conferme avete scelto sicuramente con giudizio avete scelto bene quindi mi fa mi fa piacere tutto questo questo è un artista straordinario che sicuramente ritratteremo avrete la possibilità di rivederlo in replica senza ombra di dubbio e anche di contattare Stefano in questa settimana in questi sette giorni in cui anch'io scoprirò sorpresa quale sarà l'artista o gli artisti del prossimo mercoledì quindi visto che altrimenti mi sfumano mi levano vi ringrazio vi auguro buonanotte noi ci vediamo sempre puntuale dalle 22 a mezzanotte mercoledì prossimo sul 166 o in streaming sul nostro sito buonanotte a tutti grazie ancora